Stiamo lavorando bene, il mister insieme al prof, insieme al suo staff stanno facendo dei lavori duri come è giusto che sia in questo momento della stagione. Noi stiamo rispondendo bene per il momento, così dobbiamo fare da qui alla fine del ritiro e speriamo di entrare in condizione quando prima. L'atmosfera del gruppo è sicuramente un'atmosfera positiva, come detto c'è stata la conferma del mister che è comunque per noi importante perché conosciamo quello che vuole e quello che chiede, quindi possiamo essere avvantaggiati da un lato. Adesso stiamo comunque facendo delle cose nuove e vedremo di apprendere e di fare le nostre quanto prima. Per il momento è cambiato il modulo, io mi trovo molto bene e questi sono i cambiamenti che ho visto. Poi ti ho detto che stiamo lavorando molto, stiamo facendo un buon lavoro sia fisico che tecnico, speriamo ci porti i risultati giusti.